Certamente potrebbe stupirci la risposta del popolo israele così totale, così incondizionata dinanzi a quanto Gesù è, ricorda, fa memoria delle opere di Dio nella loro storia. No, noi serviremo il Signore e questo ci fa capire come l'adesione è possibile proprio perché si fa esperienza di un Dio che si prende cura di te, che provvede a te, che ti salva, che ti redime. E questo non può entrare nella logica dei bambini di cui oggi il Vangelo ci presenta come modello perché il bambino si fida di chi si prende cura di lui, il bambino in modo incondizionato si mette fra le braccia di chi veramente lo ama. E che allora comprendiamo che aderire al Signore significa vivere questa fiducia incondizionata, ma non perché siamo bravi a fidarci di Lui, ma perché abbiamo abbondantemente, grandiosamente sperimentato l'opera salvifica di Dio nella nostra vita. Dio è Padre e in quanto Padre noi siamo figli Sui amati di cui ci affidiamo totalmente. Buona missione.